Bene, nuova lezione, nuova regione direte voi. No, nuove regioni, perché facciamo Abruzze e Molise in una botta sola. Non è niente di particolarmente complesso, come vi spiegavo. Questa è la cartina che dovrete sapere, diciamo così. Prendete il libro a pagina 63 e poi a pagina 65 e troverete appunto le cartine che vi servono. Allora, i confini, innanzitutto. Questo è l'Abruzzo e questo è il Molise. Non mi sembra niente di particolarmente difficile. Allora, vi ho detto una cartina unica, per cui non stiamo a impazzire sulle varie regioni confinanti. Abbiamo a nord le Marche, a ovest il Lazio, che confina appunto sia con Abruzzo che con Molise, a sud-ovest la Campania, a sud-est la Puglia e a est abbiamo il mare Mediterraneo. Facile. Un po' meno facili sono le città. Capoluogo da sapere assolutamente dell'Abruzzo è l'Aquila, poi le province sono Teramo, Pescara, Chiedi. Allora, diciamo che sapere ha indispensabili, da sapere in maniera indispensabile, appunto l'Aquila e Pescara. Le altre due ovviamente non è che non dovete sapere, però eccoci. Invece in Molise abbiamo Isernia, che è il capoluogo di provincia e il capoluogo di regione che è Campobasso. A livello di geografia fisica, a parte il mare, abbiamo il fiume Tronto, che qui non ho segnato, ma che ritroverete, perché è al confine con le Marche, che abbiamo già visto, e il fiume Sangro. Diciamo, sono luoghi famosi, in un certo modo, Val di Sangro, Sulmona, di cui vedete qui una piccola scritta, l'Aquila, perché purtroppo sono zone a fortissimo rischio sismico. Montagne, allora, siamo sugli Appennini, ovviamente, questo è il, come si dice, il Gran Sasso d'Italia, è un massiccio montuoso, che non mi interessa la quota, non mi interessa il nome della cima più alta, il Gran Sasso, si deve sapere, appunto, è il suo nome, e la Maiella, che è un altro massiccio montuoso, insomma, dove c'è, importantissimo, il Parco Nazionale, di Abruzzo, Molise, Lazio, insomma, il Parco Nazionale della Maiella, ok? Poi, ultima cosa interessante, la Conca del Fucino, Conca o Piana del Fucino, non si legge molto bene nella vostra cartina, comunque, se guardate con attenzione, lo trovate, più o meno sotto la U di Abruzzese, cercate bene qua, in questa zona, ok? Un po' più, forse, ecco, forse un po' più in qui, qui, in questa zona qui, ok? E niente, nella cartina del Molise, dovete solo trovare le due città, quindi niente di drammatico. Allora, detto questo, passiamo oltre, e vediamo, i primi abitanti, adesso vediamo l'Abruzzo, ok? Propriamente detto, i primi abitanti dell'Abruzzo erano i Marsi, popolazione pre-romana, ok? poi sottomessa ovviamente dai romani, ed è simpatica sta cosa, perché questo nome è sopravvissuto appunto nel territorio, nella zona, marsicani, e infatti abbiamo l'orso marsicano, perché l'orso, appunto, insieme ad altri animali selvatici, lupi, eccetera, vivono, l'orso vive appunto nel parco nazionale dell'Abruzzo, ok? È una riserva molto importante proprio per la sopravvivenza dell'orso abruzzese. Dicevo che l'Abruzzo è una terra a fortissimo rischio sismico, ok? Però prima, aspetta un attimo, forse è meglio questo. Allora, l'Abruzzo, ma anche il Molise, appunto, vedremo, è anche un territorio di forte emigrazione. Ok? Dunque, sì, forte emigrazione, perché è una terra povera, è una terra misera, difficile da coltivare, siamo sugli appennini, sulle montagne, non è molto semplice, quindi moltissimi abruzzesi se ne sono andati. Tanto che la più grande città abruzzese è Roma. No, non nel senso che Roma è in Abruzzo, ma nel senso che a Roma vive la maggioranza di abruzzesi che vive in città. cioè ci sono più abruzzesi che vivono in città a Roma di quanti ne vivono, che so, all'Aquila. Ok? Questo è il concetto. E vi dicevo appunto che l'Abruzzo è una terra difficile anche per i continui terremoti. famoso è il terremoto dell'Aquila del 2009, è stato veramente terrificante, ha fatto dei danni pazzeschi, soprattutto a causa della costruzione scriteriata degli edifici, cioè se ne sono fregati dei criteri antisismici, ma non solo, addirittura hanno falsificato, diciamo così, truccato dei materiali utilizzati. Nel cemento, ad esempio, hanno utilizzato sabbia che veniva dal mare, quindi col sale, e quindi aveva una tenuta, diciamo, decisamente inferiore ai materiali fatti come si deve. Perché l'hanno fatto? Per risparmiare. hanno ingannato, ovviamente, ci sono delle personaggi, personaggi con pochi scrupoli, che se ne sono fregati della sicurezza degli edifici che costruivano, e per risparmiare sui materiali mettevano queste cose. Oppure usavano i tondini d'acciaio, avete, vi ricordate i tondini d'acciaio, quelli che tengono insieme il cemento armato, quelli che tengono insieme la nostra scuola, ve l'ho spiegato. Beh, i tondini d'acciaio, quelle sbarre, no, di acciaio che sono dentro, anziché di un certo diametro, li mettevano di un diametro inferiore, quindi ovviamente risparmiavano sull'acciaio, dichiaravano di aver usato un tot acciaio, invece ne usavano di meno, e diciamo così, l'avanzo diventava tutto guadagno per godersi i soldi. E hanno distrutto una città in questo modo, e vite umane, ovviamente, perché sono rimasti sotto. La cosa grave è che sono crollate anche strutture che sono indispensabili in caso di emergenza. È crollato l'ospedale, è crollata la caserma dei pompieri, è crollato anche l'edificio della prefettura. Il prefetto, cioè il capo della provincia, quello che organizza la sicurezza, la polizia, insomma, come si può dire, quello che garantisce il buon ordine in una provincia, bene, il palazzo del governo, quindi della provincia, no, della provincia, scusate, del prefetto, è crollato, come vedete. Cioè, da lì potevano magari coordinare i soccorsi, aiutare la gente, organizzare, invece è crollato proprio il, diciamo, il centro di comando della zona. Geniale, io direi. Simbolo del danno e del terremoto, adesso un attimo solo, dicevo, simbolo di questi disastri è appunto la chiesa di Santa Maria del suffraggio. chiesa di Santa Maria, vedete come si è, come è finita, è paradossale perché è stata edificata nel mille, dopo il 1700, insomma, durante il 1700 per, diciamo, ricordare le vittime del terremoto del 1703. Sì, esatto, una chiesa costruita a ricordo delle vittime del terremoto è crollata circa 300 anni dopo, ok, i 200 e passa anni dopo per un altro terremoto. L'hanno appena risistemata, inaugurata nel 2018, spesi un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Comunque considerate che ancora oggi all'Aquila moltissime zone sono ancora terremotate, non hanno ancora ricostruito, sono lungaggini, soldi mangiati, soldi buttati, un sacco di gente che ancora non è rientrata in casa. Sono anni ormai. Ecco, monumento, a parte moltissime chiese, monumento famoso della città dell'Aquila è la fontana delle 99 cannelle. È abbastanza chiaro, no? 99 cannelle, eccole qua. Ok, vediamo se riesco a trovarvi un'altra un'altra immagine. Allora, vediamo un po'. Allora, fontana 99 cannelle, vedete, subito arriva perché è famosa. Eccola qua, vediamo le immagini, ta-da! Ecco, vedete com'è fatto? È una specie di quadrato, no, una specie di U con gli angoli, no, non è proprio questo, eccola, questo, fondamentalmente, questo, ok? Ecco, 99 cannelle. Dove ero rimasto? Ah sì, ero rimasto qua, 99 cannelle. Allora, economia abruzzese, allevamento di ovini, ma è molto interessante la Piana del Fucino. La Piana del Fucino a metà 1800 è stata bonificata perché era un lago da privati, su iniziativa di privati, vedete, una pianura bella grande, ok? È, diciamo, l'unico luogo dove c'è vera e propria pianura in Abruzzo e è stata molto utile per la coltivazione, quindi una buona coltivazione. Ma quello che ci interessa dell'Abruzzo non è tanto il discorso del vino, delle patate, eccetera, perché ce l'ho non va per tutti in Italia, quello che ci interessa è la produzione dello zafferano, avete presente lo zafferano? Quella polverina gialla con cui, ad esempio, si fa il riso allo zafferano. Niente, lo zafferano si ricava dai pistilli del fiore, del fiore dello zafferano. È costosissimo perché occorrono tantissimi fiori per produrre pochi grammi di zafferano. E poi, interessante, è anche la produzione di liquirizia. Se vi piace la liquirizia non vi potete dimenticare dell'abruzzo. Allora, altri settori economici sono la produzione di energia, energia idroelettrica, ma anche energia eolica, eccola qui, e anche lo sfruttamento del gas metano, ok? C'è un po' di gas che si può utilizzare appunto per produrre energia elettrica e riscaldamento, eccetera. Interessante anche, sul vostro libro non c'è, la produzione di furgoni, ok? Furgoni, eccoli qua, ok, uno stabilimento praticamente che produce furgoni sia per la Fiat che per la Peugeot. È un'azienda mista, diciamo così. Molto famosi sono anche i confetti di Sulmona, un grande produttore, Sulmona è una grande, una città che produce appunto moltissimi confetti, famosi, ecco, mettiamola così. l'artigianato nella produzione di coltelli ad esempio, ma anche nella produzione di merletti. Se non sapete cosa sono i merletti, più o meno qua si capisce, se no avevo già preparato un'immagine che è questa, ecco, questi sono i merletti, pizzi e merletti, ok? Tutte queste belle cose lavorate, ecco qua, dunque, mi sono perso, ecco, signora, arrivederci, è stata molto gentile. Poi l'Abruzzo è famoso anche per il centro di ricerca spaziale, ce l'avete a pagina 62, la spiegazione, sono i laboratori sotto il Gran Sasso, perché sono lì? Perché in pratica fanno una ricerca sulla materia, un po' come a Trieste, vi ricorderete il ciclo sincrotrone, in pratica fanno ricerche di fisica, studiano la materia, dell'universo, e hanno costruito questo laboratorio sotto il Gran Sasso, appunto perché è un massiccio montuoso e la roccia filtra le radiazioni che arrivano dallo spazio. In questo modo, diciamo così, al laboratorio arrivano soltanto determinate radiazioni, soltanto determinate particelle che sono l'oggetto dello studio, senza interferenze. Sempre nella Piana del Fucino, il vostro libro non lo ricorda, ma non ricorda neanche Furgoni, se per questo è un libro che fa schifo, abbiamo Telespazio, Telespazio è una serie di antenne che servono per il controllo dei satelliti, che orbitano, eccetera, dare comando, insomma, il controllo dei satelliti e anche per le telecomunicazioni, per le comunicazioni televisive, radiofoniche, eccetera, internet. Poi, sulla costa, ovviamente, abbiamo il turismo balneare, quindi l'amico Fritz, tanto per cambiare, è molto contento di andarvi. il Molise, il Molise, ragazzi, eccolo qua, il Molise ha un grosso problema, è stato disboscato, oltre a essere zona sismica, è stato anche disboscato, il disboscamento, ok, toglie supporto alla terra, e quindi abbiamo le frane, ok, se non ci sono le radici degli alberi, questa è la situazione. Come in Abruzzo, abbiamo fiumi a carattere torrentizio, quindi rischio di alluvioni, eccetera, eccetera, come in Abruzzo, abbiamo una forte emigrazione, per la difficoltà di vivere in quelle terre, i primi abitanti erano comunque i Sanniti, vi ricorderete, le guerre Sannitiche, agricoltura, vi dicevo, povera, ah sì, giusto, questa è un'immagine nuova per voi, chiaro, no, non ha un altro attore, quindi è un'agricoltura povera, abbastanza chiaro come simbolo, poi abbiamo energia eolica, lo stabilimento Fiat di Termoli, dove producono motori e parti dei motori, anche qui artigianato nella costruzione, nella fabbricazione di coltelli, ma interessantissima, è la secolare, plurisecolare produzione artigianale di campane di Agnone, ad Agnone si producono queste campane, diciamo, che vengono vendute, esportate in tutto il mondo, e sono apprezzate evidentemente. Ok, la lezione è già finita, farò una breve, magari, lezione di ripasso, e di controllo sul libro, che è sempre il solito. Fine. Ciao. Mi dispiace per i molisani e gli abruzzesi, che magari seguono questo video, ma capite, non è che... ho fatto più di le due pagine sceme, che ci sono sul libro, quindi perdonatemi. Saluti.